L'impeto riformatore del governo gialloverde in campo scolastico sembra essersi fermato. Di tutti i disegni di legge presentati negli ultimi mesi, l'unico ad essere andato in porto è quello sulla introduzione della educazione civica nei programmi scolastici. Disegno di legge di cui peraltro non si sentiva proprio il bisogno, visto che tutto sommato l'unica novità che questo provvedimento contiene è quella relativa all'obbligo di dare un voto anche per questa disciplina. Per il resto è tutto fermo. Il disegno di legge a firma di Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle, finalizzato a ridurre il numero di alunni per classe, cioè il cosiddetto disegno di legge contro le classi pollaio, è bloccato in Commissione Cultura perché il governo non sembra intenzionato a finanziarlo. neppure con un euro. Se ne parlerà in autunno, quando si dovrà mettere mano alla legge di bilancio del 2020. Al Senato sono fermi anche i disegni di legge che dovrebbero abrogare una volta per tutte la chiamata diretta, con il rischio però che fra un mese, quando si dovrà dare avvio alle operazioni per il nuovo anno scolastico, assunzioni comprese, uffici regionali e dirigenti scolastici non sapranno davvero come comportarsi e anche il disegno di legge con cui la pentastellata Bianca Laura Granato vorrebbe dare ai docenti e al personale ATA la possibilità di ricorrere all'ufficio regionale contro alcuni provvedimenti dei dirigenti scolastici, resta per adesso una buona intenzione e basta. Ad oggi infatti il provvedimento risulta solamente depositato al Senato ma non ancora assegnato ad una commissione. Insomma a conti fatti in questi mesi l'unico disegno di legge che potrebbe diventare legge è quello sulla educazione civica che il Ministro Salvini sta già vendendo come una sua grande vittoria politica. Se poi nelle prossime settimane il progetto di regionalizzazione dovesse davvero consolidarsi o addirittura andare in porto il risultato sarebbe a dir poco paradossale dal momento che questo progetto è decisamente contestato da gran parte degli insegnanti e del personale della scuola. Su questi temi noi continueremo a tenervi informati rispetto a ciò che accade in Parlamento sia alla Camera che al Senato quindi seguiteci su questo canale, seguiteci anche nel sito della nostra testata www.tecnicadellascuola.it scriveteci, inviateci i vostri commenti, le vostre osservazioni. Grazie per la visione! Grazie a tutti